Oh, porgo le mie scuse a Damiano Beltotto, a Fabio Venturi, a Stefano Fanini e in generale a Verona Volley. Non entrerò nel merito di tutte le situazioni delle mie ragioni o dei diversi punti di vista, ma spiego a priori a Damiano che non mi conosceva, quello che era il mio fine, quello che è il mio fine generalmente. Anzi, prima di tutto sottolineo che avevo preconizzato il premio che avrebbero ricevuto, sì, anzi no, sì, viene premiato un addetto stampa di Serie A1 di Superliga, sono 12 squadre, quindi era evidente, probabile che poi era una novità. Ma proprio mi rifaccio al messaggio che ha pubblicato Damiano su LinkedIn, che il premio non è tanto solo per lui, ma per tutte le persone che collaborano. Adesso non apro neanche l'altra schermata, ma è esattamente quello. Per me, quel signore sull'ottantina che stavo raccontando, vale il personaggio, il campione. Quindi io vado una volta e cerco di raccontare quante più cose possibili. Scelgo la forma visiva per comodità e poi su enordest.it non ho riportato... Grazie. Grazie.